buongiorno buongiorno oggi è venerdì 3 novembre la segna stampa in breve di video 33 nuovo appuntamento con la nostra informazione cielo sereno su tutto il territorio alto tesino una notizia delle ultime ore incendio questa notte intorno alle 2 nella zona di lazfons a poca distanza da chiusa distrutti alcune decine distrutte alcune decine di metri quadrati di bosco nessuno è rimasto ferito in regia abbiamo oggi massimo moro con il suo aiuto diamo un'occhiata a quello che accade alle 6 e 30 di oggi sulla conca che ospita il centro abitato di dobbiaco vedete il cielo sereno all'orizzonte qualche foschia nel fondo valle e come detto ci sono buone notizie per l'intera giornata la conferma arriva anche dalla grafica grazie alla collaborazione con gli esperti meteo sole sull'intero territorio alto tesino temperature minime e temperature massime in linea con la giornata di ieri andiamo a vedere quali sono le aperture dei quotidiani che troviamo oggi in edicola l'alto adige i binari la terra di nessuno ogni notte i gruppetti di migranti rischiano la vita soprattutto nella zona della stazione di bolzano il corriere dell'alto adige la patente di a hammer sta diventando un vero e proprio caso presunti favori perder esige chiarezza il diretto interessato l'assessore provinciale replica ho sempre agito correttamente la cronaca lingua teresca cura del quotidiano dormita in ci si occupa dei maestri artigiani una possibilità ed una opportunità per i nostri ragazzi non solo piena occupazione ma livelli di reddito molto interessanti il quotidiano tag est zaitung le novità che interessano da vicino le scuole medie altotesine presto anche le superiori anche con voti negativi si potrà venire si potrà essere promossi la sui tiroler virciap zaitung la pagina economica e non solo del venerdì oggi ci si occupa in apertura di stress quali sono le conseguenze sul nostro fisico sulla nostra psiche e anche sugli sulle performance sul posto di lavoro la cronaca a livello nazionale di internazionale con il Corriere della Sera Madrid non cede in carcere nove leader catalani pugno duro della magistratura spagnola nei confronti degli indipendentisti catalani sempre per la cronaca il solo 24 ore l'Euribor anti abusi passa al test di mercato la Gran Bretagna intanto alza i tassi Powell alla Federal Reserve per quanto riguarda il mondo delle automobili il business del lusso e il mercato del futuro per il lusso la Ferrari alza le stime dopo gli utili record nel terzo trimestre Tesla con i conti in rosso troppi ritardi sui nuovi modelli e alleanza tra i grandi per network europeo della ricarica elettrica è tutto in chiusura come sempre vi ricordiamo gli appuntamenti da non perdere prosegue il capodanno birraio lo slow sverte della Forst la cavalcata di San Leonardo in Alta Badia è in calendario il 5 di novembre cioè questa domenica l'8 di novembre Sportilfe Alto Adige presenta l'attività e i progetti futuri il 22 di novembre l'appuntamento con l'inaugurazione della foresta natalizia nel giardino della Forst si va avanti fino al 7 di gennaio grazie per aver scelto anche oggi l'informazione di video 33 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti